Costruisci le competenze per il tuo futuro in campo e in laboratorio. Acquisisci le capacità professionali per migliorare e valorizzare le produzioni agroalimentari pubbliche. Progetta e gestisci interventi biotecnologici per la tutela della biodiversità e dell'ambiente. Non eri quello che aveva paura di chimica, biochimica, genetica? Sì, è vero. Sai, il primo anno di biotecnologia è servito anche per uniformare le mie conoscenze e poter applicare al mondo agrario. Poi guarda, ieri ho fatto esame di biochimica del metabolismo secondare e alla fine è andato tutto a fare. Allora Francesco, dimmi un po', tu che provieni da scienze naturali, hai trovato qualche difficoltà per inserirsi qui nella nostra facoltà nel corso di biotecnologia agraria? Io ho trovato molto stimolante il fatto di applicare le mie conoscenze di base allo studio delle produzioni. E poi una cosa bellissima di questo corso di laurea è che ci sono veramente tante attività di laboratorio. Il corso di laurea in biotecnologia agraria è un corso di laurea nuovo, istituito e attivato nell'anno accademico 2010-2011 nell'Ateneo di Catania. È un corso fortemente innovativo, ancorato alle tre grandi A che contraddistinguono la facoltà di agraria, ancorato alle produzioni agrarie, ancorato alle produzioni e alle tipicità agroalimentari e ancorato certamente all'ambiente. Si apre e si offre agli studenti non soltanto di agraria, ma agli studenti anche delle triennali e delle facoltà scientifiche. È finalizzato a formare e a dare delle informazioni generali che possano mettere gli studenti di tutti i corsi scientifici nelle stesse condizioni. L'unico corso ancorato nella classe magistrale di biotecnologia agraria nel sud Italia. In Sicilia è certamente l'unico e per questo abbiamo voluto fortemente, per una serie di considerazioni e di punti di forza, attivare questo corso a Catania. Da alcune statistiche piuttosto recenti di altri corsi di laurea in biotecnologia dell'Università di Milano e dell'Università di Bari, per esempio, emerge che ad un anno dalla laurea, gli laureati magistrali in biotecnologia agraria hanno per il 70% trovato occupazione. Ma questo è un dato che ci conforta e ci conforta particolarmente se si considera che l'anno prossimo ci saranno i primi laureati in biotecnologia agraria dell'Università di Catania.